Due colpi nel giro di poche ore. Per il primo, due uomini si sono finti poliziotti per ingannare la vittima. Per il secondo, invece, un'intera banda di ladri è entrata in un'abitazione ma è stata scoperta ed il colpo è sfociato in una rapina. Due situazioni diverse, ma il bottino lo stesso. Armi. Quattro i fucili finiti nelle mani dei malviventi. Nel primo caso, intorno alle 20, due finti poliziotti in borghese hanno messo in scena un controllo. Un finto posto di blocco sulla Statale 7, alle porte di Taranto, in cui è incappato un uomo che ha accostato l'auto. I banditi lo hanno ripulito di tutto quanto avesse con sé, compreso un fucile per il tiro al bersaglio. Altri tre fucili sono stati recuperati, invece, nella notte tra martedì e mercoledì scorso. All'inizio doveva essere un furto. Una banda di ladri è entrata in una villa di un pensionato ad Uggiano, Montefusco, frazione di Manduria. In casa, oltre al capofamiglia, una badante di Manduria, era presente anche un 45enne, figlio del pensionato, svegliato nel sonno dai rumori. I ladri, scoperti, invece di darsela a gambe, hanno picchiato l'uomo con il calcio di un fucile, recuperandone poi altri tre da caccia, custoditi in un armadietto. Il 45enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una frattura al cranio. Su entrambi i casi lavora la polizia e caccia i malviventi, ma di loro, né delle armi, al momento non c'è traccia.